Ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, due le iniziative organizzate dal comune di Terranova Bracciolini. Si incomincia venerdì 18 ottobre con la proiezione presso l'auditorium Le Fornaci del film La Pista, un documentario sulla vita di Luca Panichi. Sabato 19 sarà invece la volta della camminata in rosa, una passeggiata di 5 km che partirà da Piazza della Repubblica. A parte un progetto, l'idea di farlo partire in modo visibile, anche il nome scelto è 048, è la sigla che identifica questa malattia per le esenzioni. È un progetto che si chiama proprio 048. Venerdì avremo una proiezione qui a Terranova di un film su Luca Panichi, La Pista, la mattina e il pomeriggio aperto a tutti alle Fornaci alle 21. Poi sabato mattina vorremmo colorare Terranova di rosa, 300 magliette rosa, saremo qui dalle 8 e mezzo, una camminata di 5 km per sensibilizzare su questo tema tutta la popolazione. Una camminata può sensibilizzare prima di tutto per farci conoscere, perché ancora noi siamo qui nel Valdarno dal 2012 e ci stiamo sforzando appunto per far sapere alle donne che c'è questa associazione che l'aiuta dal momento in cui sono state, vengono dimesse dal posto operatorio fino a quando, fino alla completa guarigione. Lo sport aiuta nella prevenzione dei tumori ed è per questo che a partire dal 22 di ottobre un gruppo di donne si riunirà ogni martedì allo stadio Brilliperi per fare attività fisica seguito da un team di preparatori atletici. Come Dipartimento Oncologico e anche come Medicina dello Sport abbiamo deciso di investire in attività fisica che è un farmaco miracoloso perché fa bene non soltanto nella prevenzione dei tumori e in chi si è già ammalato però sta bene può fare attività fisica ma anche per la prevenzione di patologie cardiovascolari e altre cose. Per cui appoggeremo questo team di donne che si riunirà ogni martedì allo stadio di Montevarchi dalle 5 alle 8 per provare a fare attività fisica insieme.